E ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video Oggi vi mostrerò 30 creazioni che possiamo fare con le nuove trapdoor della 1.13 o 1.14 Quindi oggi andremo ad utilizzare l'ultimo snapshot di minecraft Detto questo invito come sempre a lasciare un like Cerchiamo di superare i 2114 like per questo video Iscrivetevi al canale se ancora vi siete iscritti E detto questo, possiamo iniziare subito Ok basta Perfetto ragazzi, eccoci Madonna mi sto buttando giù Perfetto ragazzi, eccoci qui Oggi vi mostro appunto questa mappa Che è stata creata da MrRokiYouTube Che ringrazio tantissimo per avermela ricreata Perché questa mappa Perché praticamente, ecco sono caduto Dico ricreata perché già uno youtuber straniero Ha portato una mappa simile E non avendo messo il download della mappa L'ho fatta ricreare in modo che potevo portarla io in italiano Perché comunque voglio mostrarvi queste cose Sono veramente fighissime E non vedo l'ora di farle nella vanilla Quindi abbiamo 30 creazioni che possiamo appunto Fare con le nuove trapdoor Come sapete hanno creato ogni singola trapdoor Per ogni singolo tipo di legno Quindi abbiamo le trapdoor di acacia Di spruce wood Di jungle wood Insomma abbiamo tutte le tipologie di trapdoor La mia preferita ragazzi È questa qui Quella di appunto spruce wood Perché è anche il mio legno preferito Perché dà molto il senso di piratesco Non so perché mi dà questa sensazione A me piace un casino Comunque iniziamo subito Con mostrarvi queste creazioni Allora La prima cosa È che appunto possiamo iniziare A creare adesso Dei tavolinetti E anche appunto Delle sedoline fatte come si deve Guardate come sono carine ragazzi A me piacciono veramente Un casino Cioè raga Sono fighissime Mentre queste qui Che sono quelli con il dark wood Se non erro Sì dark oak Sembrano tantissimo Delle barrette di cioccolata Non ci posso fare nulla A me ricorda questo qui Sembra della cioccolata Purtroppo non ho l'optifine Perché è lo snapshot Però comunque Mi piace abbastanza come cosa Questa qui invece È la versione Con il legno di birch Ragazzi sto provando A mettere la texture pack Nuova di minecraft Probabilmente Crasherà minecraft Se crasha minecraft Veramente Io mi sparo Perché Non posso neanche impostare Oddio ci sono riuscito Ma L'ha fatto? Oh si l'ha fatto Raga Abbiamo una texture di minecraft Messa anche E non cambia la ciosba Non cambia nulla Cioè E cambia della cobblestone Ok Un'altra idea per utilizzare le trapdoor È questa qui Ovvero quella di creare Tipo delle persiane Per le finestre È fighissimo sta cosa Perché guardate Sembra proprio Come se fosse una porta Questo qui Come se fosse appunto Un blocco unico In realtà Sono due trapdoor Messe uno all'opposto Dell'altra E creano questo effetto Che è veramente Simpatico Oltre al fatto Che possiamo appunto Creare delle tettoie Adesso Possiamo metterle In questo modo Per creare un pattern O uno stile Abbastanza particolare Qua abbiamo un'altra versione Sia con le vecchie trapdoor Diciamo Che con quelle nuove E mi piace Mi piace È una bellissima idea Questa qui ragazzi Soprattutto se ti vogliamo Fare una verandina Sulla nostra Vanilla Mentre questo qui ragazzi È tipo un armadieto Dove dentro Abbiamo delle ceste Veramente è fighissima sta cosa E come avete notato ragazzi Le ceste adesso Con il nuovo snapshot Non si attaccano più Perché se noi teniamo Premuto shift Guardate Non si attaccano Mentre Se non teniamo Premuto shift Si vanno ad attaccare E possiamo mettere finalmente Tutte vicine Che è una cosa veramente Oh finalmente Dopo tipo Sette anni di minecraft Finalmente possiamo farla Sta cosa Passiamo da quest'altra parte Qui abbiamo la stessa versione Di quella Di questo specie Di questa specie di armadietto Però con le altre trapdoor Che questa qui comunque Non è malissimo Come trapdoor C'è da D'effetto di vedo Non vedo Che mi piace abbastanza Possiamo utilizzare anche Le nuove trapdoor Ragazzi Per creare Questa specie di falò Che è molto bello Come cosa Possiamo creare tipo Delle sedioline Che si mettono a terra In pratica È veramente figa Come cosa Qui c'è anche la versione Con le altre trapdoor Siccome i trapdoor Non prendono fuoco Possiamo creare tipo Questa griglia in legno Dove sotto c'è il fuoco Ed è figa sta cosa Anche se Dovremmo mettere tipo attorno Non so Dovremmo mettere tipo attorno Della cobblestone In questo caso E non E non è il legno Perché se no Prenderebbe tutto fuoco Però così già ragazzi È anche più bello Mi piace di più Essere sincero Poi possiamo anche utilizzarle Per creare delle cose Da spiaggia Infatti Possiamo creare tipo Detali da mare Le sdraio Da mare Poi possiamo anche utilizzarle Per fare gli ombrelloni Guardate che figa da ragazzi Possiamo metterle in questo modo E mettere sopra poi I carpet Per fare gli ombrelloni colorati Anche se Se non sbaglio Queste cose così Si possono fare già Nella versione normale di minecraft Però naturalmente Nella versione attuale di minecraft Però soltanto Con queste trapdoor qui Mentre in questo modo Andiamo a creare Sempre degli stili differenti Un'altra cosa bellissima ragazzi È questa Ovvero che adesso Anche gli item frame Possiamo metterle Tipo a terra Insomma In qualsiasi orientamento Del blocco che noi vogliamo E quindi si Possiamo creare Le sdraio Di questo tipo Questo qui è Quello di acacia Lo spruce wood Insomma Possiamo creare Diverse combinazioni In più Mettendo tipo Un minecraft Così Noi possiamo fare Anche una cosa così Dove ci possiamo sedere È veramente figa Sta cosa ragazzi Bene 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 Passiamo adesso A le cose ancora più belle Intanto possiamo andare A creare ragazzi Taolinetti Per i nostri salottini Con le nuove trapdoor Che guardate Che figate ragazzi Possiamo creare anche Delle poltrone Con un tavoletto Singolo E la cosa figa ragazzi Che guardate Che noi possiamo anche Andare a creare tipo Un passaggio segreto Dentro un tavolinetto Perché nessuno Andrebbe a pensare Che dentro un tavolinetto C'è un passaggio segreto C'è Fighissima sta cosa Poi Le trapdoor invece Di berce Possiamo Abbinarle col quarzo Per creare tipo Questo design Perché comunque L'interno è bianco E quindi riprende molto Il colore del quarzo Ma la cosa che mi piacciono Di più ragazzi Sono questi qui Cioè raga Guardate che figata è Questa cosa qui Possiamo fare appunto Le tavolinetti Sono troppo belli E la cosa ancora più bella Che vabbè Che abbiamo qui Le varie versioni Sono queste cose qui ragazzi Cioè guardate Che figata Possiamo anche creare Questi divani Dove possiamo sederci Tramite i minecart Facendoli glitchare Con il blocco Questa cosa è veramente Facilissima da fare Si fa con un pistone E il minecart Il blocco Si vanno diciamo A fondere Poi raga Cioè guardate Che cacchio di figata Sono delle poltroncine Siamo tipo Le poltroncine Che ti senti Ti fanno i massaggi Tipo le poltrone elettriche Non so come si chiamano Di preciso Mentre possiamo anche Sfruttare Le nuove trapdoor Per creare appunto Le finestre Cioè raga Ora guardate Che figata Che sono le finestre Possiamo fare Tutte queste versioni Invece di utilizzare Il vetro Possiamo utilizzare Le trapdoor E possiamo fare anche Delle finestre Che si vanno ad aprire Quindi possiamo uscire Delle finestre anche Vabbè Possiamo sempre Abbinarle con il fuoco Per creare sempre Questi effetti particolari E poi possiamo creare Anche delle mensole Dove possiamo appoggiare Con i time frame Degli oggetti Che è fighissima Guardate raga Possiamo appoggiare Tipo delle pozioni Possiamo fare Quello che vogliamo Mettere delle test Insomma è veramente Una cosa bellissima Possiamo andare a creare Anche diciamo Questi armadietti Come un pochino Quello che abbiamo visto prima Che al posto di mettere le ceste Possiamo mettere I time frame Con degli oggetti specifici Quindi come se fosse Un armadietto Delle armi O degli utensili Questo qui invece È come possiamo Andare a ricreare Una cucina su minecraft Guardate che figata ragazzi Questo qui dovrebbe essere Tipo il fornello E a questo punto Questo qui lo lascerei vuoto In questo modo E metterei tipo Qua dentro Una fornace E sarebbe Molto meglio Fare una cosa così Cioè guardate che figata In questo modo Apriamo e c'è la fornace Che possiamo utilizzare Qui c'è l'acqua E qui dove possiamo Poggiare il nostro cibo Tramite i time frame Che adesso si possono mettere Appunto in tutte le direzioni Dei bloc Aggiungendo anche delle scalette Possiamo ricreare ragazzi Dei salottini Cioè Veramente Sarà un aggiornamento Fighissimo Questo qui di minecraft Ci saranno delle possibilità Di decorazioni Veramente altissime E non vedo l'ora Il punto di aggiornare Con questa nuova versione Di minecraft Guardate anche qui Che figata questa cosa Qui fatta in questo modo O queste qui raga Cioè Sono bellissime queste cose Certo Sono diciamo Dei tavolinetti Oppure delle menze Dei monouso Dove posso andare a mezzo Soltanto un oggetto Però raga Fanno la loro figura Sono veramente bellissime Queste cose Perfetto ragazzi Che dire La mappa In realtà Finirebbe adesso Però volevo mostrarvi Un attimo Un paio di idee Che mi sono venute Anche a me In mente La prima di queste È quella di ricreare Una scala In che senso La mostro subito Andiamo a prendere Dello spruce food Prendiamo naturalmente Le nuove trapdoor E le scalette di spruce food Andiamo a creare Tipo delle scalette Messe Così Questo qui un attimo Andiamo a levare Facciamo in questo modo Prendendo le nuove trapdoor Possiamo metterle Così Guardate raga Cosa possiamo andare A ricreare Guardate Che figata Possiamo fare così Perché noi Possiamo fare Una sorta di passaggio segreto Dentro la scala Ed è bellissima Sta cosa Guardate Perché intanto La scaletta Uscirebbe in questo modo Che a me piace Un casino Perché si crea Questo bordino Che è bellissimo E comunque Non si notano le scalette E poi comunque Qua sotto Potremmo fare Un passaggio invece Per scendere Il tutto Sarebbe nascosto Da Diciamo Una piccola parete Fatta con le nuove trapdoor Prima di concludere il video Ragazzi Volevo invitarvi A scrivere qua sotto Nei commenti Quale di queste decorazioni Vi è piaciuta di più La più bella E più votata da voi L'andremo a fare Nella vanilla Appena ci sarà L'aggiornamento Stabile Quindi quello Che è sicuro Da fare Senza che ci siano Glitch O bug Nel mondo Perfetto Detto questo Io direi che Questo showcase Delle nuove trapdoor Può anche Finire qui Quindi ragazzi Speratissimo che questo video Vi sia piaciuto Se si fate Ma sapere Con un pollicione In su E un commento Qua sotto Vi ricordo Di passare In descrizione Perché Gli sono tutti I link Dei miei social Come instagram E telegram Mi raccomando Seguitemi Su entrambi Naturalmente Invito come sempre Ad iscrivervi Al canale Se non vi siete iscritti Volendo Prescrivervi Al canale E se ce l'avete fatto Volevi cliccare A sinistra O a destra Per vedere Un altro mio video Nada guys Questo video Finisce qui E noi ci vediamo domani Con le bedwars E forse anche Una live Ciao a tutti